Le sirene hanno spezzato il silenzio questa mattina alle 8.15 in Corso Matteotti a Giarre. Un tonfo improvviso che ha subito fatto comprendere l'entità della tragedia. Due operai, mentre erano intenti a collocare dei rulli di asfalto sul tetto di un'abitazione privata, il cui ingresso si affaccia sul Corso Matteotti, si trovavano in cima ad un cestello quando, improvvisamente, sono precipitati al suolo dopo che il braccio meccanico non ha retto il peso e si è ribaltato all'indietro. I due operai, entrambi residenti a macchia di Giarre in seguito al violento impatto, sono rimasti gravemente feriti. In particolare, uno di essi, un 33enne, ha subito perso i sensi. I sanitari del 118 prontamente intervenuti, compresa la gravità delle ferite, hanno allertato subito l'elisoccorso che è arrivato nel giro di pochi minuti da Messina e che è atterrato presso la vicina lipista del campo di atletica. Il ferito più grave, entrato in coma, è stato subito intubato e poi trasportato in l'ambulanza all'ospedale Cannizzaro di Catania. L'uomo ha riportato un grave politrauma, non cosciente, è stato poi condotto in rianimazione con la prognosi riservata. Questa mattina Corso Matteotti, per circa due ore, è stata chiusa al traffico veicolare dalla polizia municipale in entrambi i sensi di marcia. Intanto, sul fronte delle indagini condotte dai carabinieri, i militari dell'arma questa mattina hanno avviato tutti gli accertamenti del caso, anche per comprendere se i due operai avevano rispettato le regole sulla sicurezza nei cantieri di lavoro.